Quando si parla di marketing sociale uno dei massimi esperti è Giuseppe Fattori e ogni volta propone a noi di Zorba un esempio concreto. Oggi in questa puntata ci parla di un progetto che permette il riciclo della plastica. Di fianco del distributore automatici viene installato un cestino intelligente diciamo in cui dopo la consumazione del caffè viene buttato il bicchiere che è stato utilizzato e in cambio si riceve se ricevono sconti sulla prossima consumazione oppure sconti sui biglietti del bus o una ricarica sulla chiavetta per le bevande. Piccole cose che hanno grande impatto. Buongiorno oggi parleremo di un progetto per avere meno plastica e alimenti più sani nei distributori automatici. Vicino al distributore si può mettere un raccoglitore di plastica e dopo aver bevuto il caffè o l'acqua si restituisce la plastica e si ritira uno scontrino per uno sconto sul prossimo caffè sul biglietto dell'autobus oppure per andare a teatro. Se preferite al posto dello scontrino potete ricaricare una chiavetta o lo smartphone. Il progetto si chiama Green Vending Machine Plasticless riparte ora dopo la pausa dovuta al Covid-19 ed è rivolto agli enti pubblici con l'intento di stimolarli a consumare meno plastica e riciclarla meglio. Un panel di esperti valuterà i capitolati d'appalto di università, città e ospedali e assegnerà un semaforo verde, giallo o rosso. La finalità non è fare l'ennesima graduatoria tra buoni e cattivi ma stimolare gli enti a migliorarsi. In alcune città sono già partiti come a Parma con Rivending o all'Università di Torino con Fund & Catering. Il progetto è nato da un'idea dei miei studenti di marketing sociale Compass all'Università di Bologna. Con Erasmus hanno visto in Europa molte esperienze simili e vogliono provare anche nelle università italiane. Ogni anno gli italiani consumano nei distributori automatici 3 miliardi di caffè e 800 milioni di bottigliette d'acqua. Una buona ingestione della plastica fa bene all'ambiente e, come vedremo nel prossimo clip, anche alla salute. Per partecipare al progetto o darci consigli vai su marketingsociale.net. Vi aspetto alla prossima clip di Lo Sai Che.